Gli impianti di gestione dei rifiuti in Sicilia vanno riportati a 5 km di distanza dei centri abitati. Lo afferma e lo sostiene l'orevole Giorgio Assenza. La nostra, dice Assenza, è una regione a rischio di emergenza di rifiuti con le discariche a collasso. Ma non per questo possiamo realizzare un nuovo impianto di gestione integrata, non tenendo in conto l'impatto ambientale e la salute dei cittadini. Cominciamo per intanto a riportare a 5 km la distanza minima dei centri abitati, come già dettava la legge regionale 2010. Prima che un'improvvida modifica la consentisse a 3 km. Per questo dunque il presente del Collegio dei Questori ha depositato all'Ars un disegno di legge di un solo articolo che riporta appunto a 5.000 metri la distanza minima consentita degli impianti dai perimetri esterni di città e paesi dell'isola. Naturalmente, specifica Assenza, questo non è che un primo passo di un riordino delle normative di settore, che dovrà necessariamente passare dalla premialità di privati identi locali virtuosi, dalla pratica della raccolta differenziata, fino alla tutela tucur del territorio a partire dalle aree agricole.